Pronto per essere utilizzato dalle squadre di calcio della nostra città è un impianto con una serie di interventi di manutenzione fatti in tempi molto celeri, superando tutta serie di problematiche che avevamo di fatto ereditato. Siamo arrivati con qualche settimana di scivolo, ma considerando da dove eravamo partiti c'erano serie di problemi che non si riuscivano nemmeno nell'anno. Quindi un applauso ai lavori pubblici, all'ufficio condenziosi che sono riusciti a togliere tutti i problemi di base e di intervenire rapidamente per fare quegli interventi di manutenzione necessari per poter omologare il campo riguardo il decoro generale di tutto lo stabile con un intervento che è stato realizzato sia all'interno degli spogliatoi sia sulla parte esterna e questo devo dire che c'è stato un grande lavoro fatto in house sostanzialmente grazie all'intervento della GELAS sulla parte esterna, dei lavoratori del reddito minimo di inserimento del personale del Comune di Gela che in prima persona è intervenuto anche perché proprio per accorciare i tempi non c'era la possibilità economica avendo ancora il bilancio bloccato per poter darlo a una ditta esterna e poi per accelerare i tempi perché i tempi erano oggettivamente brevi e abbiamo quindi optato per farlo in house e devo dire che tutti coloro che hanno partecipato l'hanno preso come un lavoro personale per poter restituire pronto il campo alla città è stato un intervento abbastanza celere perché siamo intervenuti in un paio di mesi a fare tutto e quindi devo fare un plauso al settore dei lavori pubblici che si è prodigato affinché il campo fosse pronto secondo le date che abbiamo concordato è un intervento che sicuramente è molto importante per lo sport a GELAS in generale perché ripristiniamo un terreno, un manto erboso per addirittura poter permettere eventualmente speriamo un giorno alla Serie B di poter giocare qui quindi diciamo è un intervento importante